Ok, l'estate è alle porte, il caldo sta arrivando, il sudore sta aumentando ed è possibile che tutto questo possa provocarti dolore alla testa, vertigini, nausea, spossatezza, crampi e potrei continuare. Ecco, quindi andiamoci a vedere in questo video qua esattamente cosa gli studi scientifici ci vadano a consigliare per avere più energie, sentirci meglio, contrastare il caldo e se si è persone che si allenano, a prescindere che si stia parlando di pesistica o di qualsiasi altro sport, le prestazioni sportive siano degne di nota. Ho infatti modo di parlare con centinaia di persone e regolarmente con l'avvicinarsi del caldo e dell'estate le persone mi dicono Edo, mi sento stanco, non riesco a performare in palestra, durante il giorno non ho le energie. Ecco, questa cosa qua è normale perché per via della sudorazione, per via del caldo, alcuni minerali e alcune vitamine idrosolubili, non ti preoccupare, in questo video andremo a parlare di tutto, provato scientificamente ma semplicemente, vengono espulsi con il sudore e questo chiaramente ha un impatto negativo su molteplici aspetti, prima fra tutte chiaramente le prestazioni in palestra, quindi magari non si riescono a mantenere carichi, non si riescono a mantenere le ripetizioni fatte magari negli allenamenti precedenti e questo è un problema perché poi non si riesce a mantenere massa muscolare o non si riesce a mettere muscolo. Ha un impatto sullo stile di vita perché se non si hanno energie, se si sta male, ci si gode meno il proprio giorno, vuoi in un'ottica di focus, vuoi in un'ottica di concentrazione e così via, e ha anche un impatto chiaramente da un punto di vista ormonale. Per esempio, l'espulsione di alcuni minerali e di alcune vitamine hanno un impatto sul testosterone e hanno un impatto sull'SHBG su cui è uscito anche recentemente un video. E benché questi effetti collaterali derivino da un fatto di disidratazione, purtroppo semplicemente bere tanto, quindi bere magari di più del normale, potrebbe non bastare, potrebbe non far rimanere questi minerali e queste vitamine all'interno del nostro corpo. E quindi sì, è giustissimo andare a bere, ma potrebbe non essere abbastanza. E quindi se già stavi bevendo e non stai vedendo risultati, devi prestarci attenzione. Anche perché se per esempio già prima dell'estate eri carente di alcuni minerali e di alcune vitamine e poi inizia a sudare, già avevi gli effetti collaterali prima del caldo. Poi con il caldo espelli ancora di più e quella carenza che magari prima era tollerabile, adesso diventa insostenibile. E quindi andiamo a vedere quali sono queste vitamine e questi minerali incriminati per capire poi come andare ad agire da un punto di vista di alimentazione e di eventuale integrazione. Però prima è giusto che io mi presenti, ciao a piacere, il mio nome è Eduardo Baldini, questo è il mio canale, sono una delle pochissime persone a non essere mai stato sponsorizzato da un brand di integrazione, da non aver mai proposto nei miei video un codicino sconto viscidino orribile. Non sono mai stato costretto da un brand a dirti, guarda compra questo integratore, compra quell'integratore perché un brand mi pagava lo stipendio, quindi non ha mai funzionato in questo modo. Noi siamo sempre andati a vedere ciò che gli studi scientifici ci andavano a dire. Sono praticamente una delle pochissime persone che probabilmente si conteranno su una mano mozzata a riportarti in continuo aggiornamento ciò che le informazioni scientifiche ci vadano a dire, comprese bene. E se non sei iscritto o iscritta, chiaramente qui ci sono sia uomini che donne, sono tutti ben accetti, magari se ti iscrivi così YouTube ti continua a promuovere i video e smetti magari di ascoltare i quattro scappati di casa che ti parla in integrazione semplicemente con il codicino sconto. Qui non funziona in questo modo. Ora, per quanto riguarda le vitamine idrosolubili, come abbiamo detto, quindi quelle legate all'acqua, quelle che richiedono di essere ben idratati, abbiamo la vitamina B di tutto il complesso, infatti le vitamine B sono diverse, ecco, a noi ci interessa tutto il complesso, con massimo focus sulla riboflavina, la tiamina e la vitamina B6. E questo è il motivo per esempio per cui nel multivitaminico senza stronzate, perché è un integratore che si basa sugli studi scientifici, all'interno ci sono quelle di massima qualità, per esempio la vitamina B6 è nella forma attiva, che è una cosa che praticamente nei tuoi multivitaminici che gli influencer magari ti hanno promosso, questa roba qua non la trovi. La riboflavina e la tiamina, per esempio, sono di grado farmaceutico. Cosa significa grado farmaceutico? Significa che la qualità è talmente alta che può essere utilizzata addirittura nei farmaci. Questa roba qua, di nuovo, nei multivitaminici che trovi a 20 centesimi al giorno non c'è. E poi non c'è da stupirsi se non viene assorbito nel modo giusto. Oppure, un'altra vitamina idrosolubile utile è la vitamina C, di cui ho già fatto anche un video recentemente, che invece è presente all'interno dell'antiossidante senza stronzate, nella massima qualità, ovvero la vitamina C liposomiale. Comunque adesso andremo a parlare di tutto. Per quanto riguarda i minerali, abbiamo il magnesio e lo zinco. Lo so, sembra una promozione al mio multivitaminico, perché chiaramente l'ho creati sapendo ciò che gli studi scientifici ci andavano a dire. Chiaramente sono all'interno nelle giuste quantità e nelle giuste forme, perché ricordiamoci, noi vogliamo dei minerali chelati, che praticamente è l'equivalente delle vitamine attive, quindi vengono assorbite di più. La maggior parte, per esempio, dei composti che ti vengono venduti contengono lo zinco ossido, lo zinco solfato, il magnesio ossido, il magnesio solfato e quello sono sole, perché il corpo ne assorbe pochissimo e non ti dà i benefici che ti deve andare a dare. Tenete in considerazione che, per esempio, lo zinco e il magnesio sono i due minerali principalmente spulsi. Con la sudorazione sono coinvolti in centinaia di reazioni. Quando parliamo di zinco stiamo parlando di più di 300 reazioni, quando parliamo di magnesio di oltre 600 reazioni. E in più, di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di composti come calcio, sodio e potassio, anch'essi espulsi con la sudorazione, che hanno un impatto anch'essi e che, volendo, è possibile andare a prendere attraverso l'integrazione con un composto di elettroliti. Si trovano molto spesso sodio, potassio e calcio insieme ed è possibile andarli a prendere, magari durante, per esempio, l'allenamento o comunque intorno all'allenamento. Adesso comunque parliamo di tutto. Ora, per quanto riguarda la vitamina B, non abbiamo dosaggi specifici per la sudorazione. Finalmente vogliamo un quantitativo giusto di vitamine B. Se non hai un buon multitaminico di qualità, è possibile andarsi a comprare un buon complesso di vitamine B. E al massimo, anche qualora ne andassimo a prendere più del necessario, non è un rischio, in quanto sono vitamine idrosolubili e, a meno che tu non vada ad abusarne come un cavallo, vengono espulse con l'urina. Poi, invece, sai, multitaminico senza stronzate, ti puoi prendere eventualmente quello, una capsula prima e una capsula dopo. Però, ecco, non c'è un dosaggio specifico. Per quanto riguarda la vitamina C, anche in questo caso, idealmente, se una persona si sente molto spossato, può provarla a prendere sia prima che dopo. Ora, io però lo so, che quando ho lanciato l'antiossidante senza stronzate, ho detto, non andate a prendere antiossidanti prima e dopo l'allenamento. Ma ho anche detto un'altra cosa, non volete andare a prendere grandi quantitativi prima e dopo l'allenamento. L'antiossidante senza stronzate, essendo il dosaggio massimo da quattro capsule, con quattro capsule te ne vai a prendere un grammo, che è il dosaggio giusto di vitamina C da un punto di vista di salute, da un punto di vista di antiinvecchiamento, da un punto di vista di abbattimento dello stress ossidativo. Ma in questo caso qua, l'obiettivo è diverso. L'obiettivo è eventualmente andare a compensare quello che potremmo andare a dispellere con la sudorazione il più velocemente possibile. Noi, infatti, gli studi ci vanno a dire di andare a prendere piccoli dosaggi, 10, 20, 30, 40 mg al massimo prima, ed eventualmente 10, 20, 30, 40 mg dopo. In questo modo qua, ecco, non si deve temere di avere problemi da un punto di vista di allenamento. Perché? Perché noi non vogliamo andare a prendere grandi quantitativi intorno all'allenamento. Infatti, chi ha preso l'antiossidante senza stronzate si ricorda che ho inviato una lista con tutte le istruzioni su come andarla ad utilizzare nel migliore dei modi dal punto di vista scientifico, ho detto, vai a prendere questo composto due ore prima. Perché a quei dosaggi più alti, che sono quelli giusti da un punto di vista di salute, noi non vogliamo andare ad avere impatti negativi sull'allenamento. Perché altrimenti la vitamina C presa troppo ravvicinata, dosaggi troppo alti, ci va ad annullare o comunque a ridurre gli adattamenti all'allenamento. E questa non è una cosa che vogliamo. Quindi, se tu ti vai ad andare a prendere della vitamina C separatamente, te la vai a prendere 10, 20, 30, 40 mg prima dell'allenamento e non hai problemi. Se hai l'antiossidante senza stronzate, cosa vai a fare? Trova a prendere magari due ore prima, con la prima assunzione da due capsule, idealmente tu comunque hai tutta la vitamina C che poi ti rimane comunque in circolo, non in eccesso, ma in giusto quantitativo durante l'allenamento e sei a posto. Per quanto riguarda lo zinco e il magnesio, gli studi cosa ci dicono? Gli studi ci dicono che, qualora non si sapesse il proprio apporto giornaliero, noi all'interno del giorno vogliamo andare ad assumere attraverso l'integrazione 200 mg per il magnesio e per lo zinco dai 5 ai 20 mg. Di nuovo, tocca dirlo, lo so che questo video sembra tutta una promozione, ma all'interno del multidermico senza stronzate c'è il giusto dosaggio e in questo caso qua può essere preso un po' quando si vuole. L'importante è non essere carenti o assicurarci, ecco, qualora si fosse carenti, cioè per esempio se io non mangio una singola verdura o non una singola, e dopo ne parliamo di alimentazione, una singola fonte di magnesio, magari ecco me lo vado a prendere. E quindi ecco, questo è il dosaggio degli studi. Per quanto riguarda invece il calcio, gli studi ci consigliano dal punto di vista alimentare un dosaggio di un grammo qualora si riscontrasse problemi da un punto di vista relativi al caldo, perché nella maggior parte dei casi una persona non è carente di calcio, il calcio si riesce ad assumere abbastanza bene dall'alimentazione, non ci sono studi che ci dicono, al contrario per esempio di magnesio, che gli studi ci dicono che il 50-60% della popolazione in America e in Europa sono carenti di magnesio, per quanto riguarda il calcio non c'è questa cosa qua. Però ecco, un grammo attraverso l'alimentazione. Qualora una persona riscontrasse di non prenderlo per qualsiasi motivo, perché se è quella persona su mille che ne ha bisogno, comunque può valutarlo di andarlo a prendere insieme ad un composto di elettroliti, insieme a sodio e potassio. Insieme, per quanto riguarda sodio e potassio presi prima, durante o dopo, poi idealmente è meglio iniziare a sorseggiare questi elettroliti che le puoi mettere tranquillamente nell'acqua, sorseggiare prima dell'inizio dell'allenamento e poi te le porti avanti durante l'allenamento. Ecco, non c'è un dosaggio standard, sicuramente è meglio provare con dosaggi bassi e mano a mano eventualmente andare ad incrementare. Perché? Perché un eccesso di potassio può andare a dare problemi. Quindi è bene partire cauti e mano a mano eventualmente incrementare e testare come il proprio corpo vada a ragire. Quindi, prima di parlare di alimentazione, a cosa dobbiamo prestare attenzione? Dobbiamo prestare attenzione a vitamina B, vitamina C, zinco, magnesio, eventualmente il calcio, sodio, potassio. Vitamina C possiamo andarlo a prendere sia prima che dopo a piccoli dosaggi o se andiamo a prendere dosaggi maggiori lo andiamo a prendere magari due ore prima dell'allenamento. Vitamina B può aver senso andarlo a prendere prima e dopo l'allenamento. Se hai il multivitaminico senza stronzate ti prendi una capsula prima e una capsula dopo. Zinco e magnesio puoi andarlo a prendere in tutto l'arco della giornata, sicuramente può valer la pena se per esempio hai un buon multivitaminico andarlo a prendere anche quello prima e dopo così se lo vai a perdere con il sudore hai subito ripristinato. Calcio, sodio e potassio eventualmente uno li mette nell'acqua e li sorseggia perché è bene sorseggiare dell'acqua soprattutto quando fa caldo ma lì in generale sempre perché anche una minima disidratazione può andare a creare impatto negativo sulle proprie prestazioni sportive prima dell'allenamento e le finisce con la fine dell'allenamento. Ora per quanto riguarda l'alimentazione per esempio come è scritto all'interno della rivoluzione sull'integrazione che è il mio manuale sull'integrazione per esempio per quanto riguarda la vitamina B abbiamo che per esempio il tonno, gli arachidi, i fagioli neri e le lenticchie ne sono ricche e quindi magari nella propria alimentazione se non si voglia andare a utilizzare gli integratori si possono andare a valutare. Per quanto riguarda la vitamina C non vuoi andare a utilizzare un composto di integratore puoi per esempio tenere in considerazione che un'arancia contiene più o meno media contiene più o meno 40-45 mg di vitamina C che è troppo poca per i benefici di salute ma dal punto di vista il contrasto al calore può andare bene. Per il calcio per esempio abbiamo latticini, fagioli, spinaci e sardine per il magnesio verdura, foglia verde e le mandorle per il potassio le banane, le patate il tonno per lo zinco pesce, carne cereali e frutta secca ecco questi sono alimenti che se una persona dice io l'integratore non li voglio andare a utilizzare cosa posso andare a fare? Può andare a valutare e andare ad incrementare questi alimenti soprattutto magari da andare a valutare prima e dopo l'allenamento in modo tale da cercare di ottimizzare in questo modo qua fa le tue valutazioni però mi raccomando non ridurre le tue prestazioni in allenamento a prescindere dallo sport che tu vada a fare tutte queste informazioni sono spiegate nella rivoluzione sull'integrazione che è una guida digitale questa è una sorpresa che riceveranno tutti i membri della rivoluzione sull'integrazione dalle istruzioni su come andarlo a comprare ma sarà un'esclusiva per i membri della rivoluzione sull'integrazione che per chi non lo sapesse è un manuale di oltre 340 pagine che ti spiegano tutti gli integratori per ogni singola esigenza qui si vede l'indice che è enorme andiamo a parlare di integratori per dormire per la massa muscolare per i dolori articolari per la sensibilità insulinica integratori blocca carbiodrati per il testosterone per la libido c'è un capitolo apposito sugli integratori come abbiamo visto in questo video per contrastare il caldo andiamo a parlare di integratori per il ciclismo per il running per il nuoto per le arti marziali parliamo di tutto in più vado a fornire una lista in continuo aggiornamento dove ti vado a consigliare i prodotti che vado ad analizzare in modo imparziale perché sì anche se io ho un integratore multitaminico e un antiossidante io all'interno per i membri vado a consigliare anche i prodotti che non siano il mio questa roba qua non la trovi da nessuna parte c'è un brand e consiglia anche i prodotti degli altri non esiste questa roba qua se vuoi smetterli di acquistare integratori inutili ecco questo è il posto giusto qualora avessi delle domande sui miei percorsi su come funzionassero c'è questo email qua o questo numero qui iscriveteli senza problemi risponderà Alessandro Maddalena a tutte le domande del caso e noi come sempre ci vediamo tutti i giornaluna sempre su questo canale ciao a tutti peace